Sissi e Golden Lady, con costumi da 9,99€ Indossami, e dai lì all'estate Goditi cocktail al ciringhito, i selfie con le amiche, i party più cool e tanto sole, mare e stile Ci starei tutto in valigia Golden Lady, e dai lì all'estate Dear Jack, domani è un altro film Più cancelli e più tirati Tutti i negozi di dischi, a soli 9,99€ con il poster dell'avvento in regalo, e in esclusiva su iTunes Sato in chiuso per lì Quest'estate si tende a musica, partiamo con Caronte e Tourist Caronte e Tourist? Certo, le navi Caronte sono comode, veloci e convenienti, con sconti sino al 30% Da Salerno a Messina e viceversa, due volte al giorno, tutti i giorni, tutto l'anno Scopo! 527414 Caronte e Tourist Un'autostrada da mare Fiat Professional ha pensato a quegli uomini che ogni giorno con il loro lavoro costruiscono un nuovo futuro E per questo meritano di più Più tecnologia, più efficienza, più valore Per loro nasce il nuovo Ducato, comportata fino a 2,1 tonnellate e i consumi più bassi della categoria Solo 5,8 litri ogni 100 km Scoprite lo sabato 7 nelle concessionarie Fiat Professional Il nuovo Ducato, il nuovo Ducato e il mio generation network Arrivo! Alla buon'ora! Scusi prof, al bar c'era una cosa infinita Come al bar? Eh sì, avevo finito la nuova Drer, Drer Zero E quindi non avevo sempre prima dell'esame E mi dice cosa non è al driver? I drink always before Exxon Ma guarda che questo è l'esame di tedesco Per questo è l'esame di tedesco Per questo è l'esame di tedesco Ma al prossimo Andai cosa? Per questo è l'esame di tedesco Per questo è l'esame di tedesco